Grazie a tutti. 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 qui ci sono qui dove lo vas a poner? lo voy a subir a youtube però vamo al facebook se lo voy a pasar a Ruben per farlo lo voy a pasar a vosotros la primera frase la primera frase del libro però è che è al revés è come un juego no? igual que este è come un juego si va adivinando que tipo de texto va apareciendo en el acetato parlo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.